5 sale da ballo da 250 metri quadrati, un teatro da mille posti, padiglioni espositivi, sala Pilates, punti ristoro, area VIP. Torna la quarta edizione di Roma in Danza 2014, l'esposizione internazionale dell'arte coreutica che si svolgerà dal 1 al 3 maggio nella location del Palaterme di Fiuggi. A Roma in Danza è possibile trascorrere tre giorni immersi nella danza in ogni suo aspetto. Si partecipa agli stage, alle lezioni, oltre 500 sono gratuite, si assiste a conferenze, si gareggia in competizioni, concorsi per vincere borse di studio, si partecipa ad audizioni, si assiste a spettacoli e molto altro. La manifestazione è stata presentata alla sede del Parlamento Europeo Italiano a Roma. Quest'anno prevediamo migliaia di visitatori, sono già 250 le scuole che hanno aderito a questa grandissima fiera. Avremo tre giorni dedicati interamente alla danza, quindi lezioni, spettacoli, audizioni, stage, quindi una grande opportunità per tutti i giovani che amano quest'arte. Avremo anche un'area bambini dedicata ai più piccoli, quindi dove ci sarà intrattenimento, animazione e gioco-danza. Un'area dedicata interamente alle sezioni caraibiga, quindi per i più scatenati anche la possibilità di ballare zumba, balli di gruppo, eccetera. Spettacoli molto importanti e soprattutto tanti concorsi, quindi la possibilità di dare un confronto a tutti i giovani che amano la danza. Com'è la situazione della danza in questo momento storico? Perché è una disciplina meravigliosa, però diciamo che in Italia viene sempre messa, non dico al secondo posto, ma considerata meno, non so, del bel canto o della recitazione. Allora, la danza sta avviendo un momento di particolare crisi. È una crisi un po' generale, viviamo tutti i giorni una situazione veramente molto molto difficile. Compagnie di ballo che vengono smantellate, scuole di danza che vengono chiuse, eventi che non si fanno più. Diciamo che però in tutta questa situazione negativa c'è una cosa positiva. La danza c'è, la danza esiste, c'è sempre stata e ci sarà per sempre. E noi vogliamo proprio offrire questo al pubblico di Roma in Danza, tre giorni di danza per ballare, per divertirsi e per avere una grandissima opportunità. Eppure noi italiani abbiamo anche delle grandi eccellenze a livello internazionale, un a caso bolle. Assolutamente sì. In Italia ci sono forse i più grandi ballerini di danza classica. Appunto Roberto Bolle è un esempio conosciuto in tutto quanto il mondo, ma non solo Bolle, ce ne sono tantissimi altri. Per esempio la nostra madrina è Carla Fracci, c'è un'icona della danza mondiale che riconosce questa manifestazione come un punto di riferimento per migliaia di giovani italiani e non solo. Alessandra, quanto fanno bene queste manifestazioni per la danza e per i ballerini? Allora, fanno molto bene, soprattutto per i ragazzi ovviamente, perché i ragazzi hanno l'opportunità di confrontarsi con il mondo della danza che c'è in giro e quindi questo è molto importante perché aiuta anche a una certa consapevolezza che è fondamentale e anche appunto all'esperienza di lavorare con maestri nuovi che non conoscono e quindi di aumentare il loro bagaglio professionale. Lei è un'icona della danza, per noi italiani è colei che ha fatto conoscere la danza classica anche alle persone semplici. In questa manifestazione lei è la madrina. Quanto è importante spronare e far capire il concetto di danza a tutti i livelli? La danza è un'arte nobile e io devo dire con grande orgoglio sono stata alla Scala, nata quasi praticamente alla Scala, portata la danza nel mondo, sola, sempre ospite, però promuovendo la danza soprattutto qui in Italia, i tendoni, le piazze eccetera eccetera. E questo è che bisogna fare, portare la danza a tutti, siccome era un po' criticata questa mia modo di portarla e di promuovere ed era il lavoro ai giovani perché non portavo me stessa lasso blu, ma portavo una compagnia e portavo un repertorio, per cui la cosa era molto più vasta e con incredulità che io arrivassi. Infatti mi dicevano signora ma lei venga con tre o quattro ballerini e noi vogliamo lei, non vogliamo Giselle. Cioè eravamo a questo punto, non parlo adesso, la crisi ormai è da anni e siccome ho dichiarato da anni che stavano smantellando le compagnie di balletto nei vari teatri, non mi hanno ascoltato, forse non hanno dato molto peso e il punto adesso è che le fondazioni si impoveriscono delle compagnie, la capacità poi di muovere, di proteggere i giovani, di mandare avanti e di sostenere la danza, la cultura insomma, in generale forse le autorità, le istituzioni non ascoltano. E questo è un grosso dispiacere perché io posso, con l'aiuto, di poter formare una compagnia, dirigere una compagnia nazionale e avere questi scambi perché le compagnie dell'estero ospiti in Italia sono compagnie bellissime, però poi non ce l'ho.